Tale padre, tale figlio. Si può riassumere così la vicenda che ha visto protagonisti in negativo padre e figlio appunto dipendenti della Daniele di Butrio. Operai che sembravano irreprensibili ma che in realtà stavano derubando l'azienda da tempo. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale hanno concluso ieri l'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Raffaele Tito nei confronti di un gruppo di dipendenti della Daniele che con sottili stratagemmi sottraeva gasolio per autotrazione e altro materiale. Per smascherarli è stata fondamentale la collaborazione degli addetti alla sicurezza interna dell'impresa vista la vastità dell'impianto industriale. Il padre Enzo Minconi, 51 anni, e suo figlio Stefano, di 27 anni di Udine, lavoravano in Daniele rispettivamente da 20 e 7 anni. Avevano perfezionato un meccanismo operativo, forse con la complicità di alcuni colleghi, che permetteva di fingere il rifornimento di alcuni mezzi sollevatori, l'occultamento delle taniche piene di gasolio in punti della fabbrica non coperti dalla visione delle telecamere di sorveglianza e del successivo trasferimento all'esterno medante mezzi aziendali. Enzo Micconi è stato colto in fragranza di reatto all'atto di scaricare nel cortile della propria abitazione le taniche piene di gasolio. In totale, dopo le perquisizioni, sono state scoperte 52 taniche per 1560 litri circa di gasolio, più altri materiali. Al gasolio, appunto, negli ultimi tempi, per quanto accertato, si è raggiunta anche l'asportazione di metalli preziosi, rame e altro, i che, recuperati nelle zone di lavorazione, venivano occultati in grandi casse di legno, poi caricate dagli arrestati con la complicità di altri colleghi in corso di identificazione e successivamente vendute sul mercato. È stato deferito in stato di libertà anche un 37enne di Pradamano per concorso in furto aggravato.